Che vi dispiace fare? Centro spirituale frattocche, la cura di VB, entità ospite. Ogni conquista evolutiva nasce sempre da una violenza fatta prima di questa conquista a se stessi. Una violenza diviene conquista quando non è più violenza. Tuttavia, se prima non vi fosse la violenza, successivamente non sussisterebbe la conquista evolutiva. Perciò fate le azioni che vi dispiace fare, quando esse possono recare bene ad altri, perché quella che ora vi sembrerà una fatica, successivamente diverrà una conquista. Violentate dunque voi stessi, ma solo se questo non vi reca un turbamento che danneggia il vostro equilibrio psichico. Il collegare e il non violentare se stessi, al fate quello che volete, può portare con sé un grande fraintendimento. No, noi non vi abbiamo mai detto questo. Vi diciamo invece che ogni conquista evolutiva nasce proprio da una violenza fatta a se stessi e che quindi la verità deve essere trovata a volte anche nel dolore che nasce da tali violenze. Tuttavia, trovandosi la verità nel mezzo, non devono essere prodotte violenze tali da produrre un vero turbamento psichico. Però noi per danno psichico intendiamo un danno vero e non un qualcosa che non vi va di fare o un qualcos'altro che non vi va di dire, il che è ben diverso. Non schieratevi dietro al non violentare te stesso. Violentate pure voi stessi, perché voi non avete neppure intuito cosa noi intendiamo dire. Violentare voi stessi significa appunto non provocate cose che vi possono turbare, fare del male, ma veramente del male, veramente causarvi dei profondi drammi interiori. Questo intendiamo, e non crediamo certo opportuno, incentivare in voi l'egoismo.